Al 93esimo si materializza la beffa per una generosa miternina, non aiutata dall'arbitro e tradita dai nervi. In pieno recupero il Fano passa, rendendo vana la strana resistenza degli scoppitani, rimasti in 10 per 20 minuti, in 9 per altrettanti minuti. Tanti gli assenti fa i padroni di casa, squalificati Torbidone e Valente, infortunati Terriaca, Mariani e Marco Tullio. Il tecnico Angelone vara, allora una difesa coi tre centrali, David Lennart, Di Ciccio e Santilli. In attacco la coppia Lucas-Lennart-Gizzi. Fano senza il bomber civile lo squalificato difensore Torta, rombo di centrocampo con l'ex terramano Borrelli trequartista dietro le punte Gucci e Sartori. Fase di studio abbastanza lunga, poi la miternina inizia a far salire la sua pressione e al ventesimo passa in vantaggio. Il merito è del difensore Filippo Santilli che sugli sviluppi di un corner raccoglie una corta respinta dalla difesa e con una gran girata mette la palla lì dove Ginestra non può arrivare. Si fa preferire in questa fase la miternina al trentatresimo cross di Carrato e botta d'incontro del baby Di Paolo che non impenserisce Ginestra. Nell'ultima parte di frazione il Fano abbozza una prima risposta e i padroni di cassa si tirano un po' indietro. Il traversone di Borrelli è raccolto dalla parte opposta da Clemente, diagonale a lato. Nell'unico minuto di recupero altro spunto di Borrelli, dreaming e sinistro fermato bene da Di Fabio. Dopo la strigliata dell'intervallo l'undici marchigiano ha un altro piglio nella ripresa e lo fa capire subito già al secondo minuto quando Gucci incorna e spreca da buona posizione il suggerimento di Lorusso. Al terzo protesta la miternina per la caduta in area di Schiphol per Di Benedetto di Barletta. Non è rigore e sul ribaltamento di fronte arriva il pareggio del Fano, lancio del solito Borrelli, Sartori parte dalla sua metà campo, dimenticato dai difensori scoppitani e firma agevolmente l'1-1. Gara sempre più in salita per la miternina che dal settimo resta in dieci per l'espulsione di Capitan Gizzi per un colpo proibito dal Sartori. Per i giocatori di casa l'attaccante ha simulato, nel capanello di giocatori rischia tanto il portiere Di Fabio che più volte strattò nel direttore di gara. Da questo momento la partita diventa nervosa e l'arbitro fa fatica a controllarla. Con la carica agonistica la miternina sopperisce all'infero età numerica, al ventitresimo Carrato impegna Ginestra che alza in corner. Carica agonistica che al ventisettesimo tradisce Di Ciccio, fallaccio su Zitarciuk e Rosso diretto. La miternina in nove eppure riesce a resistere bene contro un Fano confusionario, anzi al quarantesimo proprio la miternina ha una doppia chance con Schiphol e ancora Santilli. Quando l'1-1 sembra scritto, al novantatresimo i marchigiani colpiscono in maniera letale col fendente di Sassaroli. E il gol partita, l'esultanza smuodata verso i tifosi locali costa il rosso al portiere Ginestra, in porta va Borrerri per gli ultimi istanti di gara ma dalle sue parti non arriverà alcuna minaccia. E anche sotto le due persone abbiamo avuto l'occasione di fare gol col tiro di Schiphol da fuori l'aria, quindi abbiamo tenuto testa fino alla fine per cato che abbiamo preso il 2-1 ai minuti di recupero su un'azione che potevamo controllare benissimo ma lì la stanchezza forse non ci ha permesso di stare lucidi e chiudere l'azione. E' peccato perché il gol del pareggio è venuto dopo un pallo di rigore sul nostro giocatore non fischiato, contropiede e la posizione dubbia fuori gioco o non fuori gioco hanno fatto il gol del pareggio. Quindi una grande miternina, una pessima direzione di gara, non è la prima volta che siamo sfortunati con arbitraggi di questo tipo, speriamo che durante l'anno arrivi qualcuno che magari è più benevolo con noi. Insomma è stato interpretato in un certo modo, si poteva fare qualcosina di meglio però era una partita particolare in cui ci tenevamo a fare comunque risultato perciò insomma stavamo sempre nella via di mezzo e comunque aver vinto questa partita in un campo così ostico penso che sia una nota molto positiva.